Noi sostanzialmente abbiamo già visto che sul nostro territorio tutta la parte della zona costiera della provincia di Ferrara è soggetta ad erosione e c'è anche un rischio forte di ingressione marina. Quindi come regione Emilia Romagna si è ipotizzato e si sono trovate anche le risorse per fare questo progetto. È un progetto che noi chiamiamo progettone 4 di 3 milioni e 300 mila euro che viene realizzato su una parte della costa della provincia di Ferrara. È un progetto straordinario perché l'ultimo l'avevamo realizzato nel 2017 e prevede un rifluimento di materiale sulla costa particolarmente importante che ovviamente poi ci somma a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che annualmente facciamo e realizziamo. È un progetto importante perché per la prima volta l'abbiamo realizzato con una tecnologia differente, non tanto con un sabbiodotto da terra, non portando la sabbia con dei mezzi da terra, ma con delle draghe autorefluenti e autocaricanti. L'avevamo proprio previsto nel progetto perché il progetto l'abbiamo realizzato partendo dal presupposto che volevamo ridurre al minimo gli impatti sul territorio e volevamo anche accelerare di molto le tempistiche. Perché ovviamente con una tecnologia di questo tipo si riesce comunque ad avere una produzione giornaliera molto superiore. Purtroppo nel frattempo abbiamo anche avuto la mareggiata che ci ha messo a dura prova, però stiamo andando avanti. I metri cubi di sabbia sono circa 140.000 metri cubi ridistribuiti su due tratti di arenile, quindi la parte di Pomposa e Lido delle Nazioni che in un'estensione totale sono quasi 4 chilometri di arenile. Il materiale è stato dragato all'esterno del canale di accesso a Porto Garibaldi in un'area che era stata definita come area critica per l'ingressione di sedimenti all'interno del canale. Queste draghe in sostanza hanno recuperato in maniera meccanica il materiale dal fondo mediante escavatori idraulici montati a bordo con benne bivalve. Questo materiale è stato caricato nel pozzo di carico e poi in navigazione ci si è spostati in prossimità degli arenili da ripascere, quindi Lido delle Nazioni e Lido di Pomposa. Questo materiale poi è stato trasformato in una miscela acqua e sabbia e refluito sull'arenile mediante di particolari pompe refluenti allocate all'interno della draga stessa. Da diversi mesi si stanno svolgendo importanti lavori di dragaggio e ripascimento lungo il litorale Comacchiese, resi necessari anche a seguito delle forti mareggiate che abbiamo avuto nei mesi di novembre e poi gennaio, coordinati dalla regione, con la quale c'è stata una stretta sinergia sin da subito. È stato importante capire quali sarebbero state le attività e il cronoprogramma per permetterci di lavorare serenamente e velocemente. Ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto contemporaneamente quattro draghe all'interno di Porto Garibaldi, un evento eccezionale se vogliamo, ma questa è la conferma di quanto siano stati rapidi le varie imprese che hanno effettuato questo importante lavoro di dragaggio. Il corpo delle Capitani di Porto svolge diversi compiti, tra cui quello della sicurezza della navigazione, motivo per il quale siamo stati contattati dalla regione e poi dai vari soggetti che sono intervenuti, anche il comune. L'intervento è stato necessario, in quanto con le due mareggiati che io definisco devastanti, che abbiamo subito quest'inverno, altrimenti non avremmo avuto la possibilità di mettere in sicurezza il territorio, ma più che altro non avremmo avuto sostenibilità, perché la spiaggia si è notevolmente allungata rispetto a prima, hanno portato tantissimo materiale, però purtroppo è forse un po' più corta dell'anno precedente, quindi non abbiamo ancora raggiunto una stabilità. Infatti auspichiamo che questo intervento possa essere, tra virgolette, periodico.